Esci proprio dalla caserma dei Carabinieri, ci sono novità sulla tua vicenda? Novità, ci sono alcune novità che ovviamente non posso dire, però ancora non ci si spiega questo accaduto. Sono ancora in corso le indagini da parte dei Carabinieri sull'aggressione subita da Andrea Dinori, dipendente di questo supermercato che vedete alle mie spalle, ci troviamo a Monte San Zavino. L'aggressione brutale è avvenuta circa una settimana fa proprio di fronte all'ingresso dell'esercizio commerciale. L'aggressione circa una settimana fa a Monte San Zavino, alla fine del turno, due sconosciuti a volto coperto lo hanno selvaggiamente picchiato 30 ai giorni di prognosi per le ferite riportate. E se chiudo l'occhio ancora vedo sferrare il pugno dell'occhio con una violenza feroce. I Carabinieri di Monte San Zavino stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza e sentendo alcuni testimoni. La verità potrebbe essere vicina. Mai ricevuto minacce, mai ricevuto telefonate anonime, mai ricevuto danni alla macchina, niente di niente. Non mi so spiegare il motivo di questa brutale aggressione. Poteva essere ad esempio un tentativo di rapina, magari pensavano tu avessi l'incasso? Sì, poteva essere un tentativo di rapina. La cartella, la bolsa era nelle spalle, quindi poteva essere anche una rapina. Non si esclude punte e piste. Anche i Carabinieri non escludono punte e piste. Hai ricevuto però tanti messaggi di solidarietà. L'abbiamo visto anche nella tua bacheca social, ma poi li avrai ricevuti anche personalmente. Sì, infatti molto affetto. Infatti ringrazio tutti perché mi arrivano un sacco di messaggi, tantissimi, dai montigiani che è un anno che lavoro qui con loro. Mi hanno seguito, ho messo come uno di loro e alla quale anche dove abito a Foiano mi chiamano tutti i giorni. Anche perché, come ripeto, i foialesi sono una popolazione magnifica e accogliente. Non sono andato lì, ma mi hanno accolto come uno di loro.